Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e questo video è lo speciale dei tre anni del canale Sì ragazzi, sono esattamente tre anni che ho aperto questo canale E in questo video vi farò vedere le reazioni dei miei amici quando gli ho detto che avevo questo canale appunto Prima non l'avevo detto perché insomma mi vergognavo, facevo video un po' così, non mi seguiva nessuno E ora ho deciso di dirglielo perché siamo arrivati a tre anni, cioè tre anni che ho aperto questo canale Ho detto vabbè a questo punto lo posso dire a tutti Non ho registrato tutte le reazioni, quindi alcune ve le dirò io Ho registrato le reazioni dell'ultimo mese circa E le altre non le ho registrate, quindi ve le dirò io E poi nulla, vabbè, ve le farò vedere in questo video Comunque ho fatto anche lo speciale dei due anni del canale e del primo anno del canale Se non l'avete visti magari andatelo a vedere, cercateli Li trovate nella playlist degli speciali E in questo video, prima di farvi vedere le reazioni, volevo dirvi anche velocemente tutti i progressi che abbiamo fatto in quest'anno Innanzitutto siamo arrivati a 173 iscritti Per lo meno ora che sto registrando questo video sono 173 E già quando ho fatto il video speciale del secondo anno del canale ne avevo 54 Il che vuol dire che in quest'anno abbiamo fatto ben 119 iscritti Circa quattro mesi fa è uscito anche il video che ha fatto più visualizzazioni in assoluto Più visualizzazioni in assoluto Lo speciale è dei 100 iscritti, quindi in quattro mesi abbiamo fatto anche 73 iscritti Tanto per dire Questo video ha raggiunto oltre il 2000 visualizzazioni Che è la collezione manga e ha raggiunto 2422 visualizzazioni 2422 e per i primi due mesi mi sembra è stata Cioè, aveva la media di 5 minuti di visualizzazione a persona In più ha fatto 90 like e 45 commenti Proprio il video migliore che gli abbia mai caricato Poi sono andati bene anche i vari video acquisti dei vari mesi Tipo quello di gennaio è arrivato a 190 visualizzazioni Quello del Luca Comics ha 159 E quello del Firenze Comics ha 237 Anche la recensione di Dead Shield, il manga di Manga96 Che ha raggiunto 167 visualizzazioni Inoltre in quest'ultimo anno ho caricato 90 video E questo è il 91esimo Quindi quasi 100 video in un anno Poi ho iniziato due nuove serie Ovvero quella dove ogni settimana circa Vi porto un video fra venerdì e sabato Dovevi farlo dei vari volumi di un volume ucciso recentemente Non di tutte le serie, di alcune serie Che ne so, Dr. Stone, Ti amo ma fatti ammazzare Difinti maledetti o Demon Slayer E poi ho iniziato un'altra serie verso settembre mi sembra Dove io e Francesco rispondiamo alle domande del quizbook di Dragon Ball Quello che ho sceso a Luca tipo non quest'anno L'anno scorso, cioè del 2017 E mi diverto troppo a registrare i video per quella serie Quindi se non l'avete vista guardatela nel primo episodio Lo trovate nella playlist Perché veramente soprattutto gli ultimi episodi fanno schiantare da ridere Niente raga mi sembra aver detto tutto Se mi sono dimenticato qualcosa io me ne accorgo poi Magari lo aggiungerò in descrizione Voi la descrizione guardatela sempre Perché magari a volte scrivo cose importanti Che mi dimentico di vivere nei video Perché sono un po' Sono un po' fuori Cioè in quest'anno per questo aspetto perlomeno non sono cambiato E quindi niente ragazzi Passiamo adesso alle reazioni Allora la prima persona a cui l'ho detto è stata Francesco Ovviamente E vedrete la sua reazione dopo Continuate a vedere il video per vedere la sua reazione Non l'ho registrata Però l'abbiamo più o meno ricreata L'abbiamo spiegata insieme La vedrete più avanti in questo video Quindi continuate a guardare il video per vedere anche la reazione di Francesco Poi l'ho detto a una mia amica subito dopo A Francesco l'ho detto tipo il giorno dopo Aver creato il canale E a questa mia amica l'ho detto due giorni dopo E tutto tre anni fa quindi ovviamente E fa tipo No figo Ganzo così ma Non se C'è diciamo è rimasta Sangue freddo così Poi dopo un bel po' di tempo L'ho detto a un'altra mia amica Che tipo due anni fa Mi ha editato anche qualche video Magari la trovate nei commenti Comunque lei mi ha supportato Mi ha detto no che figata Glielo avevo scritto su whatsapp Mi ha scritto che figata Così mi sembra E quindi mi ha supportato E mi ha anche editato qualche video appunto Durante l'estate di quello stesso anno L'ho detto a un altro mio amico E tipo gli ho detto su whatsapp Mi ha risposto ok Ha detto Magari se ti va puoi anche seguirmi Ma che casino c'è fuori stamani Scusate E fa ok Così ma proprio non Nulla a zero Poi esattamente un anno fa L'ho detto a un'altra mia amica L'ho detto a un'altra mia amica E tipo Mi fidava di lei Quindi glielo ho detto E mi fa Cioè gli fa vedere appunto C'ho questo canale E mi fa Noo ganzo Sima Ma tu a quanto ce l'hai? Ma quant'è che fai video? Quanti iscritti c'hai? Così Quindi lei insomma Ci è rimasto abbastanza bene Penso Poi qualche mese fa Non mi ricordo Quanti mesi fa Ma diversi L'ho detto a un'altra mia amica E tipo Glielo fa vedere Glielo fa vedere il telefono Glielo fa vedere Cioè vado sul mio canale Glielo fa vedere E tipo Così Fa Così E si mette a ridere E non mi dice più nulla E E gli fa tipo Ma Cioè gli chiedo qualcosa Ma continuava a ridere Proprio non diceva più nulla A un certo punto gli fa Cioè Se era calmato un attimo Gli fa Ma ti sembra un coglione Per questa cosa Cioè ti sembra una cazzata E mi guarda Se ricomincio a ridere E mi fa Sì E questa veramente Questa reazione Stava bellissima Perché comunque C'era una delle mie migliori amiche Gli fa Ma ti sembra un coglione Mi fa Sì Ridendo Quindi Poi ultimamente L'ho detto a un'altra mia amica Stavo Andando su YouTube No Cioè gli stavo Gli stavo dicendo questa cosa Vado su YouTube Per fargli vedere il canale Mentre Mi avvicino il dito All'icona di YouTube Cioè Fino a prima Non mi aveva mai detto nulla Sapeva che gli dovevo dire una cosa Non mi aveva detto nulla Avvicino il dito All'icona di YouTube E Si ferma Tipo si sta camminando Si ferma E mi fa No Mai un canale YouTube Così proprio Questa sembrava quasi impaurita Mi fa Ma come Come fa A parte prima Dico vabbè Aspetta 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 Come Per Guadagnare un po' di tempo Per aprire YouTube E l'aveva capito subito Come Ho avvicinato il dito All'icona di YouTube Va bene E insomma Gli lo fa vedere E fa No Così Cioè Insomma C'era rimasta E poi gli dico Ma ti sembra un coglione Gli lo chiede anche lei Ma ti sembra un coglione Per questa cosa No Perché un'altra persona Mi ha detto di sì E lei mi fa Sì infatti lo pensa Anch'io E lì veramente Scoprià a ridere E poi Mi ha detto No vabbè scherzo Cioè se comunque Poi diventeranno YouTuber famoso Cioè sappi che io ti supporto Poi mi ha detto No Cioè mi ha detto una cosa Tipo Quando diventerai famoso Però Non mi ricordo Quindi Cioè Pensa che io diventi famoso Dunque crede in me E il fatto che mi abbia detto Proprio Lì davanti Cos'è che mi aveva detto Cioè Mi ha detto Io ti supporto Qualcosa del genere Mi ha fatto davvero piacere Poi qualche giorno fa L'ho detto Ad un'altra mia amica E Stavo aprendo YouTube Gli fa vedere il mio canale Si gira verso me E mi fa Ma lo so eh Io non glielo avevo mai detto Fa Lo so Come fa a saperlo E mi fa Si l'ho visto Dal telefono Insomma di un'altra Persona Qui avevo detto Del canale E l'ho già visto Ma ti seguo anche Ma scusa Da quanto mi segui Ma da un mesetto Guarda anche i tuoi video Io ve lo giuro Ci sono rimasto Perché non me l'aspettavo proprio Cioè sono andato lì Pensando ora Voglio vedere la sua reazione Invece lo sapeva di già Sono tutto fiero Di dirglielo Invece lo sapeva di già Insomma Una figura di merda Ho registrato a sorpresa La sua reazione Quindi non sa Che l'ho registrata E forse la metterò dopo In questo video Dipende Perché non è venuta Tanto bene E Cercherò di metterla comunque Poi c'è la reazione Di mia mamma Anche questo Forse lo metterò Nel video Forse non lo so Perché questa è venuta Piuttosto male Quindi ci vorrebbe proprio Un miracolo Per evitarla per bene E metterla Nel video Però Ci provo Insomma Gli ho detto E mi fa Male così Ma che ti sei messo Su youtube Sì Inizia a guardare i video Questo Questo Non capiva Cioè Non realizzava Insomma Vabbè Non importa Adesso Andiamo con Le reazioni registrate E Un po' Quelle Cioè I messaggi Che mi sono arrivati Dopo che l'ho detto a tutti Su instagram E comunque Vi dico solo una cosa Quando l'ho detto a tutti Gli iscritti sono aumentati Solo di 10 Quindi non Cioè Tutti gli altri È solo grazie a voi Quindi ragazzi Vi ringrazio davvero Vai con le reazioni Buona raga Partiamo dalla Dalla reazione di Francesco Che non l'ho registrata Perché gliel'ho detto Tre anni fa Allora Però Vi spiegheremo più o meno Come è andata Io ho aperto il canale E Il giorno Subito dopo Gliel'ho detto Il giorno dopo Mi sembra Di quello che vuole dire Allora io Ho detto subito No non ci credo C'è un canale Sì davvero Ho fatto così ragazzi No davvero Davvero Sì sì Magari si fa qualche giro insieme Infatti Ci convido che adesso Non vi ricordo nemmeno Perché sennò È veramente sputtanante Quindi comunque Questa reazione Ve l'ho fatta vedere ora Insomma Ve l'ho più o meno spiegata Perché non l'avevo ripresa prima Ci sono diverse reazioni Che non ho ripreso Comunque Vi ho spiegato adesso Come è andata Niente Ciao a tutti ragazzi Passiamo alle prossime reazioni Ah ci sei te Sono io Non te l'aspettavi eh Veramente me lo sono appena aspettato Davvero? Sì L'aspettai allora Macchia ennelle Ci sei te Quanti hai? 150 Eh, mi sono messo bene. Però aspettavi? No, eh? Ehm... Come ci sei rimasto? Insomma? No, perché, come posso spiegare, dopo che te l'ho cercato su YouTube ho capito. In che senso? Che l'ho cercato su YouTube e ho detto, ah, ho un canale YouTube lui. Ha capito allora, mentre lo stavo cercando? Sì. Si capisce... Sì, quello del canale, sì. Si capisce molto bene. Lascio, io inizio nella sedia... Sì, vabbè, quella è proprio tre anni fa, tipo. Ho fatto il tappo. Non è che non so l'idea, non va. Come fai? Non puoi farlo? Ah, no, stai... Ma che cosa... Eh, laschiamo. Cosa devi fare? No, spesi, spesi, spesi. Tappo. Scusa, scusi. Scusi. Spontate, va lì, va l'antica. No. Sono io? No. No! No! Sanno che a me mi carbono le mani, mi manca così. Sì. Che sono io? Questa è la reazione? 149 iscritti. Ti rendi conto? La mia reazione è stata in merda. Non ci sei rimasta. Non ci sei rimasta così. No, ma che cosa carina. Non ci sei rimasta. Non ci sei rimasta. Io totalmente apatico, tipo. Interessante. Te l'aspettavi? Quando si mangia. Io mi aspettavo che mi dicessi che eri gay. Ehi! Sì, da! Lo so, eh. Ti seguo. Ma non ci passa a me. Proprio che mi sono davanti a me, via. No, non ci fanno. Davvero? Ti giuro. Ti seguo pure se mi scrivi. Ma da quattro? Da un mesetto. Guarda. Quattro. Quattro. Pronta. Guarda. Oh, brava. Ci sei rimasta, eh? Sì. Non posso. Centosessanta, eh? Onesto. Onesto. Piore assolutamente. Trentadue, se non sbaglio. Che fai se ne fai già? No, che non ti fai. Che fai se ne fai già? Che fai la ragione. Sì, stiamo facendo la reaction. Sì, stiamo facendo la reaction. che lo si costruire il comunicatore. Quattro. Sì. No raga voi non avete idea Questo video sta durando anche troppo Ma mi sa che durerà di più per questo motivo Che vi sto per spiegare Allora io stavo editando il video no? A un certo punto mi arrivano notifiche da Whatsapp Intanto qua fuori c'è sempre il casino E vedo che uno mi ha scritto Auguri il canale Cioè mi ha fatto gli auguri per il canale E poi vedo che hanno creato un gruppo Ma guardate Dei mie amici hanno creato un gruppo Che si chiama Mi sembra MakiML Official Fanpage Official, sì fanpage o qualcosa del genere Dove mi hanno fatto gli auguri per i tre anni Senza che io avesse detto nulla Cioè io non ho detto niente Ma hanno fatto gli auguri Hanno sparato un mar di cavolate Non avete nemmeno idea Se ce la fa Vi lascio le foto ora subito dopo Subito dopo questo clip Ma ragazzi veramente Se state guardando questo video Siete pazzi 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 Pazzi